E' un momento felice per usare RaiPlay, o perlomeno ci sono tante cose, diverse cose belline, belle assai e una di queste è sicuramente la, i sei pezzi facili che scrisse Mattia Torre ma che arrivano su Rai3 come una sorta di chiusura del cerchio dirette da Paolo Sorrentino ma arrivano sia su RaiPlay che su Rai3 a cadenza settimanale i famosi sei pezzi facili ovvero sono migliore, gola, perfetta, qui e ora, 4.65 e in mezzo al mare dal 19 novembre per cinque sabati consecutivi, quindi c'è una giornata di doppia dalle 22, quindi sempre in ora comoda su Rai3 per una produzione di RaiCultura noi siamo molto molto contenti di poter vedere anche per la prima volta io non ho mai visto, no, di Mattia Torre non ho avuto proprio tempo, modo di andare a teatro c'è Geppi Cucciari che ha portato cose al teatro suo e spesso sì, tra l'altro sentiremo proprio un brano da perfetta sì, gli interpreti di questi sei pezzi facili sono Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Geppi Cucciari, Valerio Mastandrea, Carlo De Luggeri, Cristina Pellegrino, Giordano Agrusta e Massimo De Lorenzo il primo a partire sarà Valerio Mastandrea con il migliore, appunto si parte il 19 novembre, questo sabato e si va avanti fino a metà dicembre con quello che tra l'altro è in anteprima, con la puntata che è in anteprima su RaiPlay con Valeria Aprea noi vi salutiamo così, senza fare l'audiolibro della settimana, proprio perché abbiamo deciso di dedicare questo spazio ma anche l'opportunità di trasmettere un audiolibro, un altro audiolibro in questa puntata proprio grazie a Emmons che ha pubblicato tutti i sei pezzi facili, quindi sono già disponibili in audio se dovessimo fare una piccola critica alla versione, alla regia teatrale di Paolo Sorrentino diciamo che quelli zoom questo induggiare sul pubblico e possibilmente sul pubblico femminile caruccio non l'ho tanto capita però non so, magari è una sensazione mia, ne abbiamo visto uno quindi non so magari appunto, tra l'altro c'è una presenza mi sembra che abbia fatto una cernita di persone, donne, verso cui puntare la telecamera però magari... la sproporzione è proprio evidente eh sì a proposito di donne, e con questo andiamo all'audiolibro vi segnaliamo che, allora, Perfetta andrà in onda interpretato da G.P. Gucciari il 26, la notte del 26 novembre ed è un brano, uno scritto, che appunto è stato, come ha detto G.P. Gucciari più volte modificato, ma non per complicazioni c'era sempre qualcosa che si metteva tra la messa in scena di questo testo che mutava con il tempo, che Mattia Torre scriveva per G.P. Gucciari quindi c'era sempre qualche impedimento grosso, non ultima, alla malattia di Mattia e tra l'altro Perfetta arriva a teatro al fotofinish probabilmente, se non ricordo male, il brancaccio è arrestato anche dopo la morte di Mattia Mattia Torre ormai sembra appunto un nome unico Mattia Torre, tutto insieme è una persona, è un autore molto presente sicuramente nei nostri cuori è molto vicino, ha influenzato moltissimo la formazione di Luca Ravenna, tra l'altro tra l'altro, a proposito di Ripley e di cose belle su Ripley potete trovare, per esempio, tutta la linea verticale bellissimo una serie meravigliosa, scritta e diretta da Mattia Torre veramente bellissima protagonista sempre Valeria Mastandrea veramente, non lo so, se non l'avete vista andatela a vedere proprio appunto, se la linea verticale raccontava la malattia con gli occhi si ma da un punto di vista pazzesco, con un'ironia io ho riso come una pazza e ho pianto contemporaneamente esatto, perché lui la scriveva, la scritta mentre stava male in una maniera molto, sempre pirotecnica, sempre straordinaria sentiamo perfetta, perfetta è la storia di una donna raccontata nelle quattro fasi del ciclo mestruale è una, appunto, io ascoltandola ho scoperto, ho capito tante cose il concetto di carico mentale lo conoscevo grazie a Flavia ma anche grazie a... grazie al carico mentale di Flavia, soprattutto no, 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 anche... dare il nome alle cose è utile per poi riconoscerlo se non conosci il... come si chiama quell'animale che sta lì davanti non sai come... cos'è, non lo sai distinguere perfetta, racconta in maniera perfetta perfetta anche alle orecchie di una donna tu ti sei... cioè tu ieri hai detto ma questa sono io sì, sì, sì è la scritta però Mattia Torre è uno sguardo... credibile beh, sì, sicuramente illuminato bisogna dire che... magari avrà ascoltato tante donne esattamente, sì, molto importante spero che sia così nella vita di Mattia Torre, nel lavoro di Mattia Torre ma anche nella... in questo sei pezzi facili su Ray3 la... la moglie, Fru che viene sempre citata come Fru come il nomignolo e... anche a lei dobbiamo dire grazie se i risultati sono questi con questo noi vi salutiamo siamo molto contenti di potervi far sentire questo estratto da perfetta ci risentiamo martedì prossimo sempre dalle 9 alle 12 su Radio Elettrica con letture metropolitane ciao la città è un caos e io con lei